non ti sopporto quando fai così sei di un'antipatia unica guarda e questo mi fa incazzare ancora di più perché lo so che hai ragione ti esaspero è vero ma capisci che ho la necessità di sentirmi viva prendermi cura di me coltivare degli interessi vedere persone insomma amarmi amarmi se hai capito bene visto che tu non lo fai più cioè non più come un tempo ma perché forse amore questo di ti ricordi che facevamo insieme la doccia ogni mattina ridevamo ridevamo tanto mi piaceva quando mi sussurravi piano all'orecchio mi piace il sapore della tua pelle sotto le mie labbra dolce amaro come una medicina una medicina che devo prendere tutti i giorni per andare avanti affrontare la giornata guarire da questa malinconia che a volte mi squaccia fino in fondo all'anima e riempivi il mio corpo di baci insaziabile mi sentivo importante per te e tu eri tutto per me amico padre amante certe notti mi svegliavo di soprassalto e ti cercavo accanto a me nel letto ti vedevo dormire e mi placavo ma non riuscivo più a riaddormentarmi una specie di dolore qui nel petto mi spezzava il respiro paura sì paura lo sai che troppa felicità può spaventare mi chiedevo se tu fossi l'unica ragione per vivere ossigeno che mi teneva in vita e temevo di annullarmi in te niente oltre te niente senza di te non amici colleghi famiglia assolutamente tu ed io capisci che dovevo reagire non l'avrei sopportata un'altra assenza un altro vuoto sai quante volte mi sono chiesta e continuo a chiedermi se può essere più consolatorio un distacco lento e inisorabile piuttosto che lo squarcio di un addio è questo dubbio che mi fa vivere con quest'ansia inutile lo so la paura di non trovarti più cercare la tua mano i tuoi sorrisi di quando bambina mi strizzavi l'occhio quando mamma mi strillava di quel tuo cenno quello che conosco solo io che mi spronava quando mi vedevi in difficoltà ed io volavo come sulle montagne russe sapendo che tu eri lì sempre discreto ma presente mi amavi a modo tuo anche se desideravo che tu me lo dimostrassi il tuo amore ma eri troppo impegnato con il lavoro troppo occupato a portare avanti una famiglia numerosa tutte quelle donne e ti è stato sempre difficile mostrare le tue emozioni poi mi hai lasciato sola sola senza la possibilità di un confronto di un giudizio di un incitamento una carezza sono state tante le cose che avrei voluto dirti ma non ho avuto il tempo come faccio ad andare avanti se non so quello che pensi